È arrivata una sconfitta, è risultato tondo ma perché poi si è provato con il portiere di movimento forse lo spinaceto è mancato in alcuni momenti chiave, per esempio c'è stato un infortunio in occasione del primo gol e magari anche l'espulsione, vi ha un po' tagliato le gambe perché poi è arrivata la rete del 3-1 Sì, diciamo è una sconfitta che viene a causa di errori individuali Io oggi alla squadra avevo chiesto la prestazione perché poi dopo tante volte mentalmente si tende ad andare giù di testa quando vengono una serie di risultati positivi A prescindere dal risultato sì, qualche errore individuale però la squadra comunque ha reagito molto molto bene Io sono abbastanza contento perché comunque abbiamo fatto un gran primo tempo dove abbiamo raccolto veramente il 10% di ciò che abbiamo prodotto Poi il secondo forse è venuto a mancare l'esperienza, è venuto a mancare un po' di concentrazione contro un Aurelio pieno di giocatori di esperienza non te lo puoi permettere Io i ragazzi li avevo messi in guardia di questa cosa che comunque era una squadra qualitativamente molto valida e dovevamo stare concentrati per tutti e 60 minuti più recupero Così non è stato, abbiamo pagato qualche episodio, complimenti a loro che sono stati bravi a sfruttarli appieno Perfetto mister, eravate comunque la squadra con miglior ruolino di marcia nel girone di ritorno Probabilmente questo rimane, non è solamente una sconfitta che può avere dei meriti a questa squadra C'è un gruppone avanti a voi però siete ancora attaccati sia alla zona playoff che promozione diretta Alcuni giocatori nelle interviste nelle scorse settimane si sono un po' sbilanciati L'obiettivo rimane quello? L'obiettivo è crescere e acquisire una mentalità da giocatore vincente Questo è quello che io alla squadra sto cercando di trasmettere perché comunque sono tutti ragazzi di 20-21 anni e andare giù di testa dopo delle buone prestazioni comunque sia è molto facile Noi stiamo lì, adesso tutto quello che viene di guadagnato non ci tiriamo indietro, ci prendiamo le nostre responsabilità Il gruppo sa le responsabilità e quindi li ho caricati di responsabilità perché penso che questo aiuti a crescere e quindi è giusto che se si sbagli si analizzino gli errori fatti senza nessun dramma e cerchiamo comunque di dare il meglio e continuare a crescere sia da un punto di vista tattico ma soprattutto mentale perché questo, soprattutto questa stagione ci dovrà servire Grazie